Traffico congestionato sulla 12 a Cerveteri, dove tra poco ci sarà il concerto di Giovanotti sulla spiaggia. Per le ultime informazioni ci colleghiamo con Rai Pubblica Utilità, dove c'è per noi Alessandra Canale. Buonasera Antonio, buonasera ai nostri spettatori. E sì, permangono disagi sulla 12 la Roma Civitavecchia per i veicoli appunto in uscita dalla capitale diretti a Cerveteri, dove è in programma il concerto questa sera. Si registrano code al momento di 14 chilometri tra la barriera di Roma Ovest e Cerveteri in direzione dell'Aurelia. Eccoli qui le code che si vedono al chilometro 25. Peraltro con forti ripercussioni anche alla viabilità ordinaria sulla via Aurelia abbiamo traffico fermo tra Ladispoli e Cerveteri. Poi il centro abitato di Cerveteri è completamente congestionato. Alle 18, per le difficoltà, essendo l'area molto congestione, è stata disposta la chiusura temporanea dell'uscita del casello Cerveteri. In alternativa si può uscire a Santa Severa. Ecco, proprio questo è l'ettratto che ci fa vedere. Proprio il casello di Cerveteri è completamente congestionato. Comunque presumo che sia riaperto perché vediamo delle macchine di fluire. Ad ogni modo vi informo che il personale di Autostrade per l'Italia sta distribuendo acqua a tutti gli automobilisti in coda. E ovviamente con molta probabilità si preannunciano le medesime criticità anche al termine del concerto. È tutto in linea allo studio. Grazie Alessandra. Grazie. 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 Grazie.